Ciao a tutti, l'avete richiesto e finalmente eccolo qua, la penultima puntata di questi sedicesimi di finale di Clash of Genera. Tra l'altro in questa puntata vi racconterò anche come si svolgerà poi il proseguo della serie, ma in realtà vi ho già accennato qualcosa nell'ultimo video, ma vedrete, ve lo spiegherò un po' più nel dettaglio. Prima di lasciarvi alla sfida che, come avete visto dal titolo, finalmente fa scendere in campo uno dei vostri beniamini, ma guardatevi il video prima di votare, vi prego fatelo perché so già che un secondo dopo che sarà uscito questo video ci sarà già il primo voto. Ebbene, prima di iniziare vi dico che la prossima e ultima puntata di questi sedicesimi è già programmata per la prossima settimana, il prossimo weekend. Quindi rimanete qua perché Clash of Genera lo portiamo alla fine. Inizia con la sigla! Due generali che più diversi non si può, sono convinto che alcuni di voi stiano dicendo ma chi caspita è Elisandro, qualcuno avrà letto solo Cesare, ha già scritto Cesare, ma non lo fate, aspettate almeno di sentire cosa abbiamo da raccontarvi sui generali perché poi ogni tanto qualche sorpresa c'è e per vedere se ci sarà una sorpresa e per illuminare le vostre menti su chi sia Elisandro ma anche su qualche aspetto un po' sconosciuto della vita di Cesare come comandante militare abbiamo qui colui che la storia non è che la conosce, la storia è la storia che conosce lui praticamente, lui è al di sopra di tutti noi e qui con noi dopo tanto tempo Giulio a raccontarci la sua visione di questi due generali. Ciao! Ciao a tutti, devo ammettere che un po' mi mancavano i tuoi complimenti e quindi bisogna ricominciare. Vero, anche perché lo possiamo confessare ma l'ho già detto negli altri video, i due video usciti post-covid di Clash of General in realtà hanno stati registrati a febbraio, gennaio, non mi ricordo neanche più, quindi questi sono i primi due video che facciamo post-pandemia insomma. Dopo tanto tempo di nuovo insieme. È vero, e si sente, tu non lo no ma io sento benissimo il caldo perché ci sono 35 gradi e un faretto piantato, ma questo credo che a chi ci segue non interessi particolarmente. Due generali complicati da paragonare, anzitutto perché uno è un ammiraglio e uno diciamo che via mare non è che abbia riscosso così grandi successi. Purtroppo sì, ci sono due generali completamente diversi che sono vissuti in due periodi ben distinti, ben diversi e con la mentalità completamente diversa, quindi sono proprio, non voglio dire gli antipodi, però sono proprio due generali che mai e poi mai si sarebbero, secondo me, affrontati ecco, in battaglia. Vero, vero. Anche perché credo che Lisandro, conoscendolo, sarebbe stato ben attento a evitare Cesare, a meno di non essere sicuro di poterlo colpire. Comunque, vediamo se c'è qualcosa che ancora non sapete di Cesare insieme alla nostra scheda. Gaio Giulio Cesare, nato nel 101, non nel 100, non sappiamo bene, avanti Cristo, a Roma, ovviamente. La vita di Cesare è complicatissima, non si può sintetizzare in pochi secondi, in cui cercherò più che altro di concentrarmi sugli aspetti militari. Da punto di vista militare, appunto, Cesare probabilmente ebbe il suo battesimo del fuoco ancora giovanissimo, quando fuggito da Roma per sfuggire alle liste di proscrizione di Silla, di cui era un oppositore, essendo anche nipote di Mario, si recò in Oriente e qui partecipò a numerose campagne anche contro i pirati. Il suo mito, come generale, però, si creò in anni decisamente successivi. Dopo essere entrato nel primo triunvirato, insieme a Pompeo e Crasso, gli venne infatti affidata la gallia, o meglio, gli vennero affidate delle legioni con cui Cesare, tra il 58 e il 49 a.C., sottomise e conquistò la gallia alla Repubblica Romana. Qui, in questi anni, affrontò un gran numero di avversari, molto spesso in inferiorità numerica, e durante queste campagne riuscì progressivamente a crearsi un esercito forte di veterani, ma soprattutto fedelissimo a lui. Nel 58 a.C. affrontò gli Elvezi, che stavano migrando attraverso il territorio romano, poi i Germani di Ariovisto, nel 57 affrontò i Belgi, che temevano di essere a loro volta sottomessi, poi si spostò verso la Bretagna, dove conquistò i Veneti, e qui creò una flotta diretta verso la Britannia. Nel 55 e nel 54 per due volte sbarcò in Britannia, l'epoca ovviamente non occupata dai Romani, sconfiggendovi popoli locali e cercando di instaurare un governo filo-romano, che però resse solo fino al suo ritorno in Gallia. Una volta tornato in Gallia, dovette affrontare i suoi scontri più importanti, contro Vercingetorige, che all'epoca era riuscito a riunire i popoli gallici sotto il suo comando. Inizialmente ebbe molta difficoltà ad affrontare le tattiche di Vercingetorige, che lo costringeva a lunghi assedi, ma alla fine fu proprio grazie a un assedio che riuscirà a sconfiggerlo e a conquistare l'intera Gallia. Vercingetorige, riunitosi, sfuggito insieme a 60.000 dei suoi uomini nella città di Alesia, verrà assediato dai 50.000 legionari di Cesare, il quale, sapendo che ben presto sarebbero arrivate truppe di rinforzo, creò un doppio muro, chiudendo da una parte gli assediati e dall'altra l'esercito di rinforzo. La battaglia di Alesia fu durissima e misa a dura prova sia il genio tattico di Cesare che la forza e la fedeltà delle sue legioni, ma uscendo di vincitore, costringendo Vercingetorige alla resa, costrinse alla resa tutti i popoli galvici. Rientrato verso Roma, ormai osannato come un grande liberatore, di fronte all'opposizione del Senato che aveva chiesto a Pompeo di privarlo di ogni potere, nel 49 a.C. decise di varcare in armi il Rubicone, dando così inizio alla guerra civile. Dopo alcuni scontri in Italia e in Spagna, affrontò il suo avversario Pompeo nei Balcani nella battaglia di Farsalo. Qui, grazie a un uso sapiente e a un'ottima conoscenza dei comandanti avversari, riuscì a sconfiggere Pompeo. Riuscì infatti a ribaltare le tattiche classiche romane, cambiando la disposizione delle sue truppe e soprattutto concentrandole laddove Pompeo non si poteva aspettare sconfiggendo così il suo avversario, che aveva sì un esercito probabilmente il doppio dei numeri, ma meno addestrato e soprattutto lo disponeva dei veterani di Cesare, che lo avevano accompagnato in dieci anni di battaglia. Fuggito Pompeo alla corte egiziana, dove verrà giustiziato, Cesare lo inseguirà e dopo aver pacificato l'Oriente, ritornerà a Roma solo per trovarvi la morte nel 44 a.C. a Lady di Marzo, ovviamente. Quanti mentalmente lo staranno già candidando alla vittoria finale? Altro che abbattere Lisandro. Obiettivamente devo dire che ho scoperto Cesare grazie dei tuoi consigli di quando abbiamo iniziato a parlare di Clash of Generals e forse mi sono fatto un'idea addirittura migliore di quella che avevo già prima di lui. Cesare è un gran bel personaggio, è molto amato, ma è anche molto odiato, secondo me, non dico dalla nostra community, ma in generale, anche dagli storici no, perché devono essere oggettivi, però dalle persone comuni. Per molti Cesare è la massima espressione di Roma, cioè Cesare è Roma e Roma è Cesare. Senza Cesare non c'è l'impero, senza Cesare non c'è la conquista, diciamo, dell'ecumene, di quella che dopo diventerà l'ecumene romana, e quindi molti lo portano sul palmo di mano. Diciamo che i romani stessi, dopo la sua morte, lo divinizzarono, quindi Cesare è diventato un simbolo, è diventato il simbolo che oggi è Roma, praticamente, quindi sono strettamente legati. Secondo me, però, è anche vero che come uomo, come politico, come generale, fu sicuramente ad altissimo livello, ma molti lo esaltano tantissimo quando in realtà fece cose che fecero anche molti altri generali romani. Cioè, lui, sì, conquistò la Gallia in poco tempo, però, diciamocelo, ok, però sconfisse piccole tribù una dopo l'altra, riuscì molto spesso, grazie alla sua abilità politica, a dividerle, grazie alla sua furbizia, al suo talento nell'arte oratoria, nell'arte strategica, a affrontare grossi nemici separatamente, e cosa che fecero anche altri generali. Quindi, anche qui, bisogna sempre fare molta attenzione, come dico sempre, anche con Alessandro Magno, con altri generali che vengono, diciamo, considerati i migliori, che, sì, probabilmente erano bravi, però non è che bisogna scartare tutti gli altri, ecco. Avevano un buon ufficio stampa. Ovviamente. Poi Cesare, che se le scritte tutte lui i libri delle sue campagne, bisogna sempre fare attenzione a cosa scrive Cesare, perché vedere battaglie dove i romani perdono 150 uomini, e i Galli 10.000, a me fa un attimo venire il dubbio. Qualcuno sarà scivolato sul sangue di questi 10.000 morendo, insomma, diciamolo. Ecco, sì, infatti. Cioè, si sarà tagliato, gli sarà andato in cangrena qualcosa. Cioè, i numeri, ecco, nel De Bello Gallico, ma in generale, in tutti i testi storici, bisogna fare attenzione, che siano greci, romani, cinesi, bisogna sempre fare attenzione ai numeri che vengono dati, perché, ovviamente, chi ha vinto, ha scritto il libro e ha solo i suoi interessi dietro. Posso dire che, secondo me, il più grande merito di Giulio Cesare, la più grande capacità di Giulio Cesare, è la sua gigantesca adattabilità, a condizioni comunque non facili, e, dall'altra parte, la sua capacità di utilizzare uno zoccolo duro di uomini, coagulandoli al massimo intorno a sé, e sfruttando realmente al massimo quello che le legioni romane dell'epoca potevano dargli. Quando c'era da vincere una battaglia, quando c'era da fare un assedio, quando c'era da semplicemente impressionare l'avversario, ogni volta era capace di comportarsi nel modo migliore, quasi ogni volta, ovviamente, anche lui ha avuto le sue battute a vuoto, quasi più che come politico, almeno a Roma, non come politico, ovviamente, di campagna, ma come politico a Roma, dove invece, soprattutto all'inizio della sua vita, qualche problemino ce l'ebbe. Però, secondo me, come generale, seppe quasi sempre scegliere la cosa giusta al momento giusto. Sì, Cesare è contraddistinto anche da questo. Hai ragione a dire che è molto adattabile, perché lui affronta una pletora di nemici diversi, lui affronta tutti i tipi di avversario, dai Galli, ai Germani, a truppe di stampo orientale, quando va sia in Egitto che in Anatolia, ma anche altri romani. Quindi diciamo che lui riuscì a affrontare ogni volta nemici diversi, adattando la sua strategia a cosa si trovava di fronte. Quindi, secondo me, questo è un grande merito che ha Cesare. Lui riesce sempre a trovare la giusta tattica, la giusta mossa, il giusto momento, per vincere le sue battaglie. Quasi tutte, ovviamente, perché anche Cesare non è in vitto completamente. Ha avuto anche lui, come hai detto tu, le sue battute d'arresto. E secondo me è giusto anche citarle alcune, perché molto spesso vengono considerate molto poco, mentre le sue vittorie, come per esempio Alessia, viene portata agli estremi. Sicuramente, non so, la battaglia di Gergovia, che è forse la sua unica sconfitta all'interno della campagna gallica, dove era lui personalmente al comando, perché ovviamente i romani ebbero alcune difficoltà. Cioè, non è che entrarono in Gallia come il coltello caldo, entra nel burro, anzi, dovettero lottare dieci anni contro ogni singola tribù gallica che si trovavano di fronte. Ebbero sconfitte. Ci furono varie disfatte. E Gergovia fu probabilmente un errore proprio suo, perché lui non riuscì a mantenere saldo il comando sulle sue truppe e lì sfuggirono diverse unità che andarono a schiantarsi contro le difese galliche. E lì, più che il talento del difensore, Verginge Torige, fu proprio causa di Cesare che non riuscì a gestire al meglio le sue truppe in quel momento. Quindi probabilmente lì non diede proprio un'ottima prova di sé. Così anche come la battaglia di Dirrachium, dove durante un assedio lui non riuscì a sconfiggere Pompeo, anzi fu costretto a ritirarsi perché avrebbe rischiato l'accerchiamento da parte delle forze pompeiane. E fu proprio il fatto che si ritirò a salvarlo durante la guerra civile, perché se fosse stato intercettato dagli eserciti pompeiani che stavano giungendo probabilmente sarebbe stato annientato in battaglia. Quindi anche lì Cesare è furbo, è molto bravo, però ogni tanto gli scivola leggermente, però riesce sempre a mantenersi in sella. Ma io a un certo punto, mentre pensavo appunto a cosa avremmo potuto dire gli oggi, mi è venuto un pensiero, cioè che alla fine Cesare abbia vinto tante battaglie, ma l'unica battaglia epica vinta è la battaglia di Alesia, in cui forse più che il genio ci fu la sua capacità di comandante di uomini che seppe tenere in piedi un esercito che avrebbe potuto sfaldarsi di fronte al fatto di trovarsi praticamente da assediante ad assediato, e invece lui riuscì a tenerlo su e a utilizzarlo per reggere l'asseio fino a far arrendere Vercingetorige. Però poi in realtà, andando un pochettino a leggere, finisco solo il pensiero, andando un pochettino a leggere, mi sono reso conto che in realtà questo perché consideravo battaglie normali, battaglie vincibili, battaglie che probabilmente avesse combattuto qualunque altro generale sarebbero state enumerate nel computo delle sue vittorie, come quelle che hai citato all'inizio, le varie campagne. Ecco, forse non siamo forse un po' abituati a normalizzare Cesare, come se tutto quello che avesse fatto dopo tutto è normale, lui è Cesare, e forse dovremmo riscoprire un po' queste sue capacità invece. Ad esempio tutte quelle mostrate durante la guerra civile. Sì, no, hai perfettamente ragione. Cioè, per noi, tutte le battaglie che fa lui, noi diciamo ovvio che ha vinto, perché è Cesare. Altri generali, al suo posto, pensiamo che non sarebbero stati l'altezza, cosa che io non ritengo del tutto vera. Anzi, secondo me, ci sono generali, forse anche migliori di Cesare, da un certo punto di vista, sia strategico che tattico. Però è vero, sì, Cesare, cioè, Alesia, secondo me, è il fiore all'occhelo delle sue campagne, delle sue vittorie, perché in una situazione del genere, dove non solo sei tagliato fuori dal mondo, perché era circondato mentre assediava un'altra, una roccaforte gallica, in inferiorità numerica, poi secondo le stime non sappiamo quanti erano effettivamente i galli. Ci sono certi che dicono che il rapporto era di 1 a 10, di 1 a 5, non lo sapremmo mai. Sicuramente era in inferiorità numerica e riuscì comunque a tenere salda l'assedio e a respingere qualsiasi tentativo di sfondamento da parte delle forze di soccorso galliche in una situazione quasi da guerra di trincea, perché gli attacchi erano continui, lui doveva correre avanti e indietro per le fortificazioni, a tappare i buchi, i suoi luogotenenti riuscivano a manovrare perché avevano Cesare che dall'alto delle sue torre, come viene rappresentato molte volte anche in alcuni documentari, lui dirige tutto come se fosse un'orchestra, questo secondo me è incredibile, c'è anche tutte le tattiche, tutte le fortificazioni, le trappole che riesce a mettere in piedi, danno proprio, mostrano a che livello è arrivato l'esercito romano e che a livelli poteva raggiungere un esercito del genere guidato da un comandante abile come di lui. Va bene. Insomma, dopo aver parlato di vizi e virtù di Cesare, vediamo chi è però il suo avversario, cioè Lisandro. Scheda. Lisandro, nato a Sparta probabilmente nel 440 a.C. In realtà di lui sappiamo niente fino al 407 quando divenne navarca della flotta spartana, all'epoca impegnata nella guerra del Peloponneso contro gli Ateniesi. Ovviamente la flotta spartana era decisamente inferiore a quella ateniese, tanto che Lisandro andò a chiedere denaro letteralmente a chiunque compreso il sovrano di Persia che gli riede in gran quantità a patto che lo usasse ovviamente per combattere gli Ateniesi. Creato una nuova flotta, Lisandro affrontò il suo avversario, cioè Alcibiade, comandante di cui peraltro abbiamo già parlato in questa serie, che però non affrontò mai preferendo attendere che si allontanasse dalla flotta ateniese per poterla attaccare. Lo scontro avvenne nella battaglia di Nozio, iniziata come un piccolo scontro e poi divenuta una battaglia più grande, sancì per la prima volta la superiorità spartana della flotta su quella ateniese. Allontanato dalla sua carica per la naturale alternanza un anno dopo l'altro, venne rapidamente richiamato dopo che la flotta spartana era stata sconfitta. Nuovamente al comando di una flotta inferiore di numero a quella ateniese, trasse però in inganno i suoi avversari, attaccandoli quando questi erano a terra e sostanzialmente annientando la flotta ateniese nella battaglia Diego Spotami. Questa battaglia che sancì la fine della guerra del Peloponneso gli diede potere e prestigio con il quale appoggiò la salita al potere del re spartano a Gesilao che però negli anni successivi lo allontanerà da ogni carica. Nel 395 con Sparta in guerra contro Tebe verrà richiamato ma mentre guidava uno a una sedia o una città alleata di Tebe si avvicinerà troppo alle mura e verrà ucciso dai soldati nemici. uno spartano ammiraglio quindi che combatte in mare uno spartano avvezzo alla diplomazia avvezzo al tradimento avvezzo anche a un po' al fregare gli avversari prima delle battaglie insomma non sembra quasi uno spartano eppure fu sicuramente uno dei comandanti più vittoriosi durante la guerra con Atene questo credo sia in dubbio Lisandro è un personaggio che a me è piaciuto un sacco soprattutto quando ho iniziato a studiare storia greca visto che avevo gli esami in sto periodo e mi è piaciuto molto soprattutto non solo perché diciamo dimostra l'adattibilità di un uomo anche lui come Cesare si adatta Sparta prima della guerra del Peloponneso sì aveva avuto esperienze marittime però diciamo la flotta spartana per esempio a Salamina o nelle varie battaglie che la vedono a combattere assieme agli Atenesi assieme alla forza panellenica contro i Persiani Sparta metteva in campo una decina di navi Lisandro invece trasforma Sparta non solo la potenza superpotenza terrestre ma la trasforma anche in una notevole potenza marittima atta a affrontare e sconfiggere la lega delioattica quindi secondo me è incredibile come Lisandro in poco tempo perché comunque i suoni di servizio non sono molti dal 407 al 404 lui praticamente in tre anni mette in ginocchio la potenza navale ateniese che fino ad allora aveva comunque continuato a spadroneggiare nell'Egeo nonostante alti e bassi che aveva avuto soprattutto con la fallimentare spedizione in Sicilia quindi secondo me da un certo punto di vista è un ottimo ammiraglio e forse il migliore tra quelli che combattono durante la guerra del Peloponneso tralacciando ovviamente il fronte atenese che è frastagliato a grandi ammiragli grandi generali ma molto spesso fregati sia dalla politica che dai propri vizi e dai propri problemi personali parliamo anche per esempio di Alcibiade e fu anche un grande politico perché lui riuscì a mettersi d'accordo con l'arci nemico diciamo così dei greci cioè l'impero persiano e a mettere insieme una flotta grazie a finanziamenti che lui ricevete dall'impero persiano anche questo secondo me non è da poco e poi le sue vittorie navali contro la flotta degli Oattica sono state praticamente il colpo di grazia che ha portato Sparta a vincere la guerra secondo te la guerra Sparta l'avrebbe vinta senza di lui? L'avrebbe vinta lo stesso? Secondo me è difficile allora sicuramente Atene era messa molto male già nel 407 dopo la sconfitta in Sicilia Atene si era completamente dissanguata e la battaglia delle delle Erginuse è veramente l'ultimo momento in cui Atene è praticamente l'ultimo rantolo di vita di Atene che finisce malissimo oltretutto alle Erginuse vince la battaglia ma poi perde tutti i suoi strateghi durante un processo quasi farsa messo in piedi dagli oligarchi di Atene secondo me Sparta avrebbe potuto vincere avrebbe vinto forse con un anno o due anni di ritardo però avrebbe potuto vincere comunque perché Atene era veramente messa non male di più era distrutta politicamente aveva perso gran parte del suo prestigio però avrebbe potuto resistere di più secondo me perché Elisandro non solo fu un ottimo comandante un ottimo ammiraglio ma fu anche un grande politico perché riuscì a sfaldare la lega delioattica pezzo per pezzo riuscì ad abbattere tutti i regimi democratici delle isole o delle città alleate di Atene e a sostituire a sostituirle con governi filo spartani quindi anche da questo punto di vista lui capì che la potenza atenese non stava in Atene stessa ma in tutti gli alleati che si portava dietro quindi anche questo è un grande merito e la lucidità e il capire che per battere il proprio avversario bisognava tagliare per esempio le linee di rifornimento quindi togliergli il potere nella costa microasiatica in Anatolia colpire le varie fortezze nel crescone esotracico cioè Lisandro è un comandante che ha capito come sconfiggere Atene qualcuno però direbbe che l'ha capito ma non si è mai realmente affrontato contro un grande avversario lo stesso Alcibiade che poteva essere il suo grande avversario non lo affronta perché affronta la flotta atenese quando Alcibiade si allontana quasi volutamente quasi sicuro di avere così un vantaggio da non avere il suo avversario di fronte mentre prima non lo affronta e quasi tutte le grandi vittorie che coglie alcune anche vero in inferiorità numerica le coglie un po' diciamo con dei metodi forse non proprio non dico truffaldini perché in guerra è tutto lecito quando c'è da sorprendere l'avversario però diciamo che diciamo con dei metodi non proprio la luce del sole quasi che non associeremo agli spartani in questa visione un po' poetica dello spartano come guerriero senza macchie senza paura però forse serviva quello insomma però forse serviva quello ma infatti ma Lissandro infatti è uno spartano che come posso dire era quasi un mezzo spartano in realtà lui perché probabilmente non non siamo certi della sua diciamo classe sociale all'interno della della polizia di sparta secondo alcuni era uno spartiato è un mezzo spartiato probabilmente era quindi ecco perché misero a lui al comando e lui oltretutto non essendo diciamo un vero proprio spartiato forse non sentendosi neanche un vero e proprio spartiato per quanto servì Sparta per tutta la sua vita forse era più avvezzo a utilizzare questi mezzi rispetto non so a un re spartano che invece una volta tornati in patria aveva dovuto rendere conto agli efori e alla cittadinanza spartana delle azioni che aveva compiuto infatti molto spesso molti re spartani finirono male finirono accusati di corruzione di azioni che andavano contro la morale spartana e furono esiliati altri uccisi e anche Elisandro rischio grosso però lui fu tra virgolette risparmiato perché probabilmente era considerato in maniera diversa rispetto a tutti gli altri che potrebbe essere una cosa positiva così come potrebbe essere negativa ma secondo me il fatto che lui abbia combattuto battaglie cercando di vincerle tutte soprattutto senza affrontare i migliori ammiragli atenesi non è un punto ad emerito anzi un punto di merito perché sapeva perfettamente che non so combattere contro il Cibiade poteva essere molto rischioso e quindi preferì aspettare il momento opportuno per cogliere una vittoria certa chi vince e vince Cesare senza se e senza ma secondo me purtroppo per il per Lisandro perché perché secondo me Lisandro meritava di essere contro qualcun altro poi aveva avuto sfortuna e è riuscito Cesare tu pensa alla famosa accoppiata Scipione Caio Mario insomma che ancora grida no lì no lì è incredibile però qui qui secondo me proprio non c'è storia per quanto siano comunque due comandanti completamente diversi chi lo sa se Cesare combatteva via mare contro Lisandro forse Lisandro lì affondava la nave questo non lo possiamo sapere però 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 Lisandro è una è una postilla della storia Cesare è un buon capitolo insomma ancora oggi Cesare è un simbolo un quindi purtroppo purtroppo o per fortuna non lo so cioè non so come lo prenderanno gli scritti perché io sì da amante dell'impero romano sì Cesare mi piace ma non mi piace cioè è una cosa un po' particolare il rapporto che ho con Cesare però vince lui secondo me allora siamo siamo assolutamente d'accordo bene io ti ringrazio ci fermiamo qua per oggi io intanto inizio a dire una cosa che che sto iniziando a dire anche sul gruppo Telegram il la prossima settimana se tutto va bene ci sarà l'ultima puntata di questi trentaduesimi di finale sedicesimi di finale chiedo scusa e uscirà il sedicesimo e ultimo nome ovviamente il per far uscire esattamente come questa settimana dovrete votare sotto il video scrivendo per favore come prima cosa il nome di chi votate per rendermi più facile i conti c'è tempo una settimana per votare cioè sette giorni esattamente dall'uscita di questo video una volta che avremo tutti e sedici nomi faremo un sorteggio anche in questo caso integrale perché chi deve vincere deve vincere contro tutti e faremo quattro gironi da quattro generali ormai ve li abbiamo presentati tutti quindi è inutile continuare a fare raccoppiamenti di due faremo quattro gironi da quattro generali quindi faremo ancora quattro puntate da ogni girone ne uscirà uno e soltanto uno e questi quattro vincitori si andranno a sfidare nelle due semifinali per poi decidere chi sarà il miglior comandante che uscirà da questo Clash of Generals io Giulio ti ringrazio è un piacere come sempre ci vediamo fra una settimana per l'ultima puntata di questi sedicesimi di finale di Clash of Generals era antica chissà se faremo anche i successivi a presto ciao ciao ciao